Nel 2017 il 9,1% della popolazione di 6 anni e più ha dichiarato di aver assistito nell'ultimo anno ad almeno un concerto di musica classica. Sono soprattutto i ragazzi e i giovani tra 15 e 34 anni a dichiarare di aver assistito almeno una volta nell'anno ad un concerto di musica classica. Tale percentuale è un aumento rispetto all'anno precedente, in particolare tra i giovani di 18 e 24 anni la percentuale di fruitori di questa forma di spettacolo dal vivo è pari al 13%. È interessante notare come tra i frequentatori di concerti di musica classica è elevata la quota dei frequentatori che assidui. Circa il 10% infatti ha dichiarato di aver assistito sette o più volte nel ultimo anno a un aumento di musica classica. Sono soprattutto le persone di 65 anni e più a dichiararsi fruitori assidui dei concerti di musica classica ma visto l'aumento dei giovani fruitori dei concerti di musica classica ci auguriamo che anche loro possano aumentare le file dei fruitori di assidui.